Ben ritrovati, oggi parliamo di turismo da Napoli al Cilento, ci sono sicuramente nuove sfide da affrontare, tanti gli aspetti su cui puntare per rilanciare soprattutto un'offerta turistica sempre più competitiva da parte degli operatori. Il nostro ospite è Marco Sansiviero che è il Presidente nazionale FENALP Turismo, ben ritrovato Presidente, grazie sempre per la sua disponibilità. Buongiorno Direttore, grazie a lei per l'invito. Allora la FENALP chiaramente è la federazione nazionale di rappresentanza di imprenditori e professionisti proprio del settore del turismo, della media piccola impresa, lei chiaramente ha un'attenzione particolare sul salernitano, quindi per motivi professionali ovviamente, quindi partirei soprattutto da Salerno, c'è questa attesa per l'inizio di Lucid Artista, si parte il 29 novembre, un po' in ritardo rispetto al passato, ma quali sono le vostre aspettative anche perché è la prima edizione di Lucid Artista con l'aeroporto finalmente attivo, che cosa vi aspettate e quali sono le vostre speranze? Ma ormai Lucid Artista è una manifestazione consolidata che riesce da sola ad essere volano e attraente per il mercato turistico cittadino, potremmo anzi dire che Lucid Artista è stato l'evento principale che è riuscito a posizionare poi negli anni Salerno sul mercato turistico. Come lei giustamente ha richiamato, quest'anno è il primo anno che avremo in contemporanea con l'apertura di questa manifestazione e durante tutta la sua durata, finalmente la operatività dell'aeroporto di Salerno-Ponte Cagnano che rappresenta sicuramente un fatto importante. I collegamenti nazionali che collegano da diverse città del nord su Salerno sicuramente daranno un impulso maggiore per sostenere i flussi turistici nel corso di questa chermesse che ormai ha travalicato i confini nazionali. Questo è il tema in prospettiva, non credo che per quest'anno ci sia la capacità di poter attrarre grazie all'aeroporto in concomitanza con Lucid Artista flussi stranieri, ma certamente sarà questo un primo banco di prova e un primo spunto di riflessione per ragionare e capire come in virtù dell'apertura dell'aeroporto Lucid Artista può diventare una manifestazione attraente a livello internazionale. Ormai l'infrastruttura è operativa, l'attenzione delle compagnie aeree importanti, insomma quelle che muovono flussi importanti è consolidata, dobbiamo cercare di organizzare il prodotto turistico, la destinazione, l'offerta turistica affinché partendo e rimanendo su Lucid Artista, così come abbiamo fatto in maniera egregio sul mercato nazionale, affrancando Salerno come meta importante tra le mete natalizie, dovremmo riuscire a fare lo stesso anche sui mercati europei. È una sfida alla nostra portata, credo che bisogna essere propositivi e positivi e anche su questo credo che il nuovo modello di organizzazione turistica che si sta delineando anche in attesa del licenziamento del testo relativo alle linee guida per il riconoscimento e la regolamentazione del DMO debba trovare concretezza in questo ambito. Presidente, intanto le chiedo l'aeroporto di Salerno quanto ha inciso sull'estate 2024 o è ancora presto per tracciare un bilancio, bisognerà attendere il prossimo anno per tracciare un resoconto più significativo e diciamo attendibile? Al momento credo che sulla determinazione dei flussi in entrata non credo che sia stato un impatto importante. Sicuramente sarà arrivato qualcosa, ma in maniera spontanea, non in maniera organizzata sicuramente e quindi il dato ancora non è possibile darlo nella sua importanza, nella sua interezza. Quello su cui bisogna essere attenti è cercare di canalizzare flussi turistici organizzati sull'aeroporto di Salerno e su questo noi stiamo lavorando da tempo come Fenaip Turismo nel portare avanti tutto il discorso legato alle DMO affinché le destinazioni riescono a cogliere appieno la portata e l'importanza dell'aeroporto. L'impatto che si è avuto, per ritornare alla sua domanda, dicevo non tanto sui flussi della stagione estiva, ora da poco terminata, ma quanto più che altro abbiamo notato certamente, questo lo posso confermare con certezza, abbiamo notato un interesse esponenzialmente in crescita da parte di operatori del mercato della domanda, anche di quella organizzata, ma al momento prevalentemente di quello del turismo individuale, che hanno proprio alla luce dell'apertura dell'aeroporto di Salerno programmato e messo in programmazione il Cilento in prevalenza come destinazione. A inizi di ottobre, notizia che si è letta anche sui giornali, proprio la EasyJet Holidays, che è la compagnia parallela della EasyJet, che è il vettore aereo, è la figlia della stessa madre, la EasyJet Holidays che cura tutto il segmento dell'hospitality, quindi punta a fare contratti con strutture ricettive, è stata ospite della nostra organizzazione per un inspection tour sul Cilento di due giorni, alla luce degli input che loro stesso hanno dati sulla tipologia di offerta che loro ricercavano, sulla localizzazione delle strutture, le dico che il contract manager della EasyJet Holidays è tornato in Inghilterra con dei contratti sottoscritti, ovviamente parliamo per la stagione 2025, quindi questo è il primo segnale importantissimo e non è l'unico perché stiamo lavorando su altre due realtà, sempre sul mercato britannico e un'altra sul mercato tedesco, che avranno, poi daranno i propri frutti nella stagione 2025 e lì saremo in grado di poter pesare l'impatto dell'aeroporto in termini di flussi turistici. Insomma, prospettive sicuramente molto interessanti, intanto c'è stato di recente un confronto da parte vostra proprio con GESAC che gestisce l'aeroporto di Salerno, ma anche quello di Capodichino, le chiedo che cosa è emerso, voi avete chiesto anche di aggiungere il nome Cilento alla denominazione attuale Costa d'Amalfi, perché? Lei forse fa riferimento al workshop organizzato a GESAC lo scorso ottobre o inizi novembre, non ricordo, ma non era un incontro bilaterale Fenaip-GESAC, quanto più un evento organizzato da GESAC che su Napoli ormai lo fa in maniera annuale, è stato il primo organizzato su Salerno più che altro per fare incontrare i buyers, quindi tutto il mondo del turismo, quindi agenti di viaggio, albergatori, associazioni, organizzazioni e anche operatori che operano non solo su Salerno, c'era per esempio Booking.com, c'era la Witsail, c'era appunto EasyJet, insomma tutto quello che è il mondo business che gravita intorno all'aeroporto di Salerno. In quella sede più che altro non è stata formalizzata nessuna proposta e non era quello l'oggetto dell'incontro, era più un incontro di carattere informativo da parte dei vertici di GESAC che gestiscono lo scalo salernitano e anche numerico da parte dei vettori che hanno dato le prime indicazioni, i primi numeri rispetto ai primi mesi di operatività dello scalo. Il riferimento alla proposta di aggiunta del nome Cilento che lei ha richiamato invece è una proposta che è seguita in quella giornata in un'intervista che mi è stata fatta e che mi è stato chiesto rispetto a questa proposta che tra l'altro aveva fatto qualche giorno fa il sindaco Trivelli di Frutani come io la pensassi e ho detto in maniera serena e pagata che credo sia un atto dovuto nei confronti di un territorio quale quello del Cilento che negli anni non è stato molto attenzionato dalla componente pubblica politica e che credo che per le sue risorse naturalistiche e per il potenziale che ha in sé in termini di prodotto e proposta turistica sia in credito di attenzione e di attenzioni da parte di chi governa le dinamiche e i processi politici. Tenga conto che il Cilento come marchio, come brand è nella top 3 dei brand nazionali riconosciuti dal mercato turistico, questo ce lo hanno detto i quadri degli stati generali del turismo del 2023 tenuti sia a Chianciano e promossi dal ministero del turismo e quindi dopo le langhe e le 5 terre ricorderete tutti gli articoli sui giornali che il Cilento era al terzo posto. Quindi questo vuol dire che a livello di mercato nazionale il Cilento ha ormai raggiunto una sua notorietà e una sua riconoscibilità. Quello che manca al Cilento è una notorietà e una riconoscibilità sui mercati internazionali. A riprova di questo, tenga conto che i dati Istat dicono che nel Cilento, nell'ultimo decennio, si sono persi i due terzi dei flussi turistici stranieri, ovvero dalle circa 628 mila presenze del 2014 al 2024, noi al 2023 siamo a poco più di 230 mila. Quindi i due terzi li abbiamo dissipati. Questo vuol dire che sul mercato straniero e sul mercato internazionale abbiamo notevoli problemi. La proposta mi sembra una proposta di buonsenso perché aggiungere innanzitutto il nome Cilento all'aeroporto Salerno-Costa d'Amalfi non mi sembra qualcosa che vada a ledere o a intaccare o a togliere. Aggiungere il nome non toglie nulla né a Salerno-Città né alla destinazione amalfitana, ai colleghi amalfitani che non avrebbero nessun impatto negativo da questa giunta. Viceversa, quel nome aggiunto in un'infrastruttura che si relaziona col mondo intero sicuramente darebbe un grosso input, una grossa mano al Cilento per aumentare quella riconoscibilità e quella attrenza che sicuramente sui mercati internazionali oggi manca. Quindi francamente non capisco neanche le posizioni di chi oggi ritiene di non dover proseguire su questa strada aggiungendo questo nome. Mi sembra un fatto molto come dire anche diritto di un territorio facente parte della medesima provincia e della medesima regione ambire ad avere una riconoscibilità un riconoscimento che oggi gli manca e viva Dio sappiamo tutti che nel turismo se non sei riconosciuto, se non sei un marchio riconoscibile difficilmente riuscirai a portare a casa risultati importanti. Mi sembra più che altro legittimo questo vostro intervento. Per chiudere, Presidente, visto che parliamo di turismo in campania è inevitabile parlare anche del caso Napoli tra la gestione dell'over tourism, cioè questi flussi spesso fuori controllo, c'è dall'altra parte l'allarme criminalità che rischia di rovinare l'immagine della città, sono due problematiche, due facce della stessa medaglia, come bisogna analizzare questo aspetto secondo lei? Ma guardi direttore, sul discorso Napoli, criminalità molto semplicemente potenziare la presenza delle forze dell'ordine prioritario, come avviene in tutte le città anche europee, penso a Barcellona, quindi la presenza, il presidio territoriale delle nostre forze dell'ordine è alla base sicuramente di questo discorso. Viceversa per quanto riguarda il problema dell'over tourism, le dico molto sinceramente quello che penso, senza voler minimizzare il problema, sminuirlo, perché siamo consci e consapevoli anche dei risvolti sociali che l'over tourism comporta in una destinazione, è anche però pur vero che molto spesso noi italiani, noi campani, siamo bravi a far carachiri, a farci male da soli, ovvero stiamo talmente tanto parlando e facendo outing, quindi portando all'esterno questo tema dell'over tourism, che io ho la seria preoccupazione, che parlandone in maniera così anche molto altamente negativa, in maniera così continuativa, noi probabilmente rischiamo di creare un problema sul problema, io immagino a delle persone, ma questo avviene anche per la costiera amalfitana, per la nostra divina costiera, io immagino un turista altospendente americano, questo lo dico perché sono apparsi anche quest'anno giornali su quotidiani, su giornali americani, notizie di questo tipo, dove la costiera amalfitana, ma anche Napoli, vengono dipinti come quasi un lunapark, quindi questo aggregato, questa tragedia umana che è appunto legata al sovraffollamento, beh ovviamente se una persona sta pianificando un viaggio se ne guarderà bene dal venire nelle nostre località, quindi credo che il problema dell'over tourism è un problema che va affrontato con serietà, ma al tempo stesso con grande attenzione, perché oggi nell'era della comunicazione e anche in quella appunto sociale, come si definisce, si fa in fretta a passare da un problema all'altro e quindi io veramente richiamo tutti i portatori di interesse, tutti coloro che gravitano sul mondo del turismo ad avere un atteggiamento quando si parla di questi temi, veramente di estrema attenzione. Allora, abbiamo concluso, grazie Marco Sanziviero, Presidente nazionale Fenaip Turismo per questo intervento, grazie mille e buona giornata. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie, allora io ringrazio invece i nostri telespettatori, ringrazio il regia Aldo Fenizia, buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.